Allora mi dicono Omar, i bambini del camp devono andare tutti quanti sotto l'arco welcome Allora tutti i ragazzi e i bambini del camp possono andare sotto l'arco perché dobbiamo costruire un muretto, quindi andare tutti lì sotto l'arco, bambini del camp, i bambini del camp sotto l'arco Senti, ora la possiamo fare la domanda a Diego, senti Diego che emozione hai provato Durante l'ultima partita contro il Genova nel segnale del gol decisivo per la Champions Sicuramente è stato il momento più velo da quando sono arrivato qua a Roma, poi quello che mi presentavo quel giorno che era l'ultima partita del Francesco, quindi finire così è stato più velo ancora se avessimo vinto 4-0 dal primo minuto Senti, ma ci sei rimasto male che era contro il Genova? Certo, poi la verità è che non me l'avevo reso conto neanche quando ho finito la partita e io l'ho detto, magari se non avessi fatto così all'ultimo minuto magari non avrei risultato però in quel momento purtroppo uno non... Sì, bravo, bravo Senti, comunque qualche amico tuo del Genova poi ti ha chiamato in privato, non è vero? Eccolo qui Stagazzi però ha nominato un personaggio in...